Buonasera a tutte e tutti, buonasera Davide. Buonasera a tutte e tutti e buonasera a te Francesca, grazie di ospitarmi anche oggi. Grazie a te per essere qui, come sempre interessantissima questa rubrica insieme. Ora io intanto vedo che la live c'è, è arrivato anche l'avviso suppongo perché Stream Elements ci segnala che siamo live, quindi aspettiamo che si palesi per qualche secondo qualcuno in chat. Eccoli, stanno arrivando, li vedo. Stanno già arrivando molto molto bene, molto molto bene. Sì sì, vedo già che il numero del timer, sì del timer, non è un timer, vabbè il numero sulla schermata di Twitch si inizia a popolare. Quindi appena, ovviamente ragazzi e ragazze che ci state seguendo dateci un feedback se ci vedete, ci sentite, quindi fatevi. Sì, anche sul taglio di capelli, sul look, quell'aspirapolvere che ho là dietro nel mio pessimo, non so neanche... Eh, guarda perché tu non vedi quello che c'è intorno a me. Qui davanti c'è veramente di tutto, davanti al computer, ma anche qui dietro e di lato. È sempre così, è sempre così, non ti dico su cosa ho appoggiato il computer per tenerlo un po' rialzato e non fare l'effetto vecchio professore che si inquadra dal basso, quindi... Ah, io ho le agende e i libri dei concorsi che non ho mai aperto, me li ho usati. Perfetto, beh no, io ho una torre di fumetti che tengono il computer su. Bene, bene. Allora, buonasera Monica, ciao Doom, ciao Alex, buonasera, buonasera. Allora, ci vedete e ci sentite? Perfetto, perfetto. Bisogna sempre spezzare una lancia, perché io sono qui una volta ogni tre settimane, faccio le cose un po' quando voglio, gli insegnanti le fanno tutti i giorni per anni, lo costretto a parlare qui. Noi siamo un po' privilegiati, scegliamo di cosa parlare di volta in volta a seconda di quello che ci vada, professore. Purtroppo non hai questa libertà, quindi... Assolutamente, assolutamente. Dico come possiamo cominciare, eh io... No, e anche adesso se vuoi. Ovviamente se ci sono domande anche su... ovviamente teniamoci per il momento all'argomento di oggi, che sarà appunto la relatività generale, lo spazio-tempo, giusto Davide? Assolutamente sì, assolutamente. Ok, quindi ovviamente se avete domande, se nel frattempo non doveste capire qualcosa, scrivetecelo così, lo dico. Io ovviamente sono qui a supporto, così posso leggere le domande a Davide, Davide eventualmente vi chiarirà i vostri dubbi, se sono domande attinenti e sono risposte che vi può ovviamente dare. Cioè voi sapete che qui vige anche la regola del... non lo so, o non è il mio tema, quindi non... ti posso dare delle risposte generali, ma non nello specifico. Quindi mi raccomando. O si controlla e te le do la volta dopo. Esattamente. Perché vale sempre. No, lo faccio anche io questa cosa, soprattutto sulle sentenze o sulle leggi. Dico, poi controllo e vediamo. Sì, ma è una cosa che è uno sguardo, sai, anche in accademia succede così. Tu ne sei perfettamente consapevole, ma lo dico anche a chi ci ascolta. Succede nelle conferenze scientifiche, succede durante le lezioni universitarie di altissimo livello, succede sempre, sempre, sempre anche nelle chiacchierate private. Nessuno è un database, soprattutto non ha molto senso sfruttare il cervello solo come database. Avendo a disposizione milioni di referenze, libri, internet, tanto vale prendersi un attimo per cercare le cose, rinfrescarle e poi continuare una conversazione. Siamo molto privilegiati da questo punto di vista. Una volta le cose andavano davvero ricordate o copiate per averle, no, sempre a disposizione. Adesso abbiamo questa fortuna, sfruttiamola, ecco. Vero, vero, assolutamente. Quindi Davide, se vuoi iniziamo, possiamo iniziare con l'argomento di oggi, che vedo che già un po' di persone sono arrivate e poi magari mano a mano si aggiungeranno. Meraviglioso, meraviglioso. Grazie Francesca, oggi io sono particolarmente emozionato perché ti parlo di uno dei miei pezzi preferiti della fisica, che è la relatività generale. Alla fine la relatività generale mi accompagna da tantissimi anni, nel senso che ci avevo fatto addirittura la mia tesi triennale. Ah, quindi proprio un legame profondo. Un legame sui viaggi nel tempo in relatività generale, sono possibili o meno, sì, no, tutta sta faccenda qua. Ho seguito e poi ci ho lavorato su per tanti anni. Quindi figurarsi sono al settimo cielo. Diamo un po' di contesto, come sempre. Oggi seguiamo la nostra solita prassi, nel senso che illustriamo la teoria, ci diciamo un po' quali sono le sue implicazioni filosofico-scientifiche più importanti, in modo assolutamente non completo, chiaramente. E poi ci muoviamo verso delle applicazioni. Nel mezzo, nel mezzo, faremo una cosa nuova, un po' particolare, ma la lascio per dopo e non vi faccio spoiler. Quando sono stato il mio primo concerto degli Iron Maiden, in mezzo c'erano dei punti di domanda e ci hanno infilato Run to the Hills, siamo tutti impazziti, quindi copio la prassi dagli Iron Maiden e ci lasciamo dei punti di domanda. Ora, siamo nel 1915. Abbiamo già visto la relatività speciale, che ha parzialmente ridiscusso la nostra nozione di spazio e tempo, e ci ha fatto scoprire che in realtà c'è un oggetto solo, che si chiama spazio-tempo, è a quattro dimensioni, e si comporta in modi diversi a seconda di chi lo osserva. Più in particolare, osservatori che vanno a una velocità relativa l'uno rispetto all'altro faranno diverse misure di spazio e diverse misure di tempo. Quindi la maniera in cui percepisci il tempo, la maniera in cui il tempo scorre per te, dipende dalla tua velocità relativa rispetto a un altro osservatore. Questo ci insegna anche un'altra cosa, che affermazioni sulla velocità in cui scorre il tempo, sulle lunghezze degli oggetti, non sono mai osservazioni assolute, ma sono sempre relative a un certo sistema di riferimento. Questo è molto, molto, molto importante. Tanti grandi passaggi nella fisica sono stati, si fondano, si sono fondati sul rendersi conto che qualcosa che sembrava assoluto e oggettivo in realtà dipende da certe condizioni esterne o da come lo si osserva o dallo stato di un osservatore. Quindi spostiamo un pezzo di fisica sugli osservatori. Oggi faremo un passetto in più, eh? Faremo un passetto in più. Quindi la relatività speciale è saltata fuori e ha permesso, in qualche modo, di ottenere una cosa molto interessante. Ovvero, leggi della fisica che non dipendono dalla velocità relativa tra due osservatori. Ovvero, anche se io e te ci muoviamo l'uno rispetto all'altro, possiamo usare lo stesso libro di fisica se ci muoviamo a velocità costante, salvo alcuni caveat. Ok. Nel senso che le formule fisiche hanno proprio la stessa forma. Resta un problema. Nel senso, dobbiamo estendere questa nozione a osservatori accelerati, no? Non solo a velocità costante, ma che si muovono in maniera libera. Questa è una cosa che si può fare anche dentro la relatività speciale, ma in maniera un pochetto innaturale. In maniera un pochetto innaturale. E soprattutto è diventato chiaro dopo che si potesse fare bene dentro la relatività speciale. Quindi diciamo che questa è una delle questioni che poi entrano nel passaggio alla cosiddetta relatività generale. Teniamoci, non ti preoccupare, ricordiamoci che già nella relatività speciale si poteva fare sta cosa con un trucchetto, ma diciamo che in relatività generale funziona un po' meglio. C'è un altro problema molto più esplicito che dobbiamo ancora risolvere. La gravità. Ora, siamo nel 1915 e le leggi della gravità sono ancora quelle di Newton. Le avete studiate quasi tutti a scuola, a meno che proprio non abbiate avuto un corso di fisica. E la forza gravitazionale è quella lì. Cavolo, non ce l'avevo neanche pensato. Ecco, lo vedo inizio con la fretta con il braccio, no? È quella cosa che c'è là sotto. Oggi parliamo del passaggio da quella a quella, no? Quindi quella è la legge di Newton. Tu hai una forza di gravità che è uguale a una certa costante, G, di gravitazione universale, e un oggetto abbastanza semplice, una frazione che al numeratore ha il prodotto tra due masse, le masse che si attraggono. Voi sapete che la forza viene applicata a tutte e due per la terza legge di Newton, e sotto abbiamo il quadrato della distanza tra le due masse. Questa cosa ci dà una forza e ci dice che 1, 1, la forza di gravità decresce col quadrato della distanza. Quindi più due cose sono vicine, più si attraggono. Questo è abbastanza semplice. Cresce con la massa degli oggetti considerati. Cresce con la massa degli oggetti considerati e è istantanea. Cosa significa? Significa che lì dentro, nonostante i due oggetti siano a distanza, non c'è nulla che ti dica che la forza ci mette un po' a trasferirsi da un oggetto all'altro. Mi spiego meglio. Io ho due masse con una certa forza gravitazionale. Facciamo che ne sposto una, ok? A quel punto la forza gravitazionale tra le due masse cambia, ok? Quella legge lì non ti dice che l'informazione sul fatto che ho spostato questa massa pian pianino arriva all'altra massa e solo a quel punto sente una forza diversa. Non c'è un segnale che viene trasmesso. Quella formula è istantanea. Io sposto la massa e istantaneamente l'informazione arriva all'altra massa e la forza cambia. Questo è un problema che a prima vista non sembra così grave ma in realtà già Newton era molto preoccupato da questa cosiddetta azione a distanza istantanea e avendo noi parlato di relatività speciale adesso capiamo anche perché. Perché ci siamo detti che nessun segnale può superare la velocità della luce nel vuoto. No? Quella è la massima velocità possibile per trasferire informazione del nostro universo. Ma se la gravità fosse istantanea se la gravità fosse istantanea io potrei prendere una massa fare su e giù con la massa fare una cosa tipo Morse no? Muoverla a destra e a sinistra per il punto su e giù per la linea adesso io non so l'alfabeto Morse ma suppongo mi bastino due sì o fare zero così e uno così no? Ok. Muovendo la massa trasmettere un messaggio istantaneamente. Questa cosa è in palese conflitto con la relatività speciale che abbiamo detto essere molto molto solida e quindi questo è un altro problema da risolvere quindi dobbiamo conciliare le accelerazioni in modo un pochetto più naturale di quello che puoi ottenere in relatività speciale. Abbiamo il problema delle interazioni istantanee nella gravità abbiamo il fatto che banalmente la gravità va aggiornata alla scoperta della relatività speciale e abbiamo un'altra osservazione un pochetto particolare. Ora non posso ovviamente farvi tutto il percorso logico che ci porta alla relatività generale però questa cosa è veramente interessante perché voi sapete tutti che la forza che viene esercitata su un corpo produce un'accelerazione no? La famosa F uguale M A no? Nel caso della forza di vedete quelle due massette sono M1 ed M2 no? Non si vede bene ma sono M1 ed M2 Ora se noi vogliamo capire che accelerazione viene applicata all'oggetto qua c'ho il pollice all'oggetto è M1 è la del Mac no? Dobbiamo prendere quella formulozza e fare uguale M1 per A l'accelerazione che M1 sente a causa di quella forza subisce a causa di quella forza e qua notiamo una cosa un po' particolare che è unica della gravità di Newton e della gravità in generale M1 si semplifica nel senso che è sia a destra che a sinistra ah giusto si questo non vale ad esempio per l'elettromagnetismo quando l'ho detto è scesa anche la luce adesso un'ombra un po' più un po' più drammatica questo non vale ad esempio per l'elettromagnetismo in l'elettromagnetismo tu al posto delle masse hai delle cariche elettriche e quindi non puoi semplificare niente l'accelerazione che un corpo subisce dipende anche dalla sua massa ma qui essendo che hai la massa sia a destra che a sinistra e se aumenti la massa aumenta sia a destra che a sinistra se la riduci la riduci sia a destra che a sinistra la puoi semplificare allora scopriamo una cosa davvero interessante che la forza l'accelerazione di gravità subita da un oggetto non dipende dalla sua massa perché si semplifica dipende dalla sua massa se è un'accelerazione data da un'interazione elettromagnetica eccetera eccetera non dipende dalla sua massa è universale quindi alla superficie della terra se io faccio cadere due oggetti ciò che fa cambiare la caduta è l'atmosfera ma se non ci fosse un'atmosfera i tuoi oggetti seguono esattamente lo stesso tipo di moto accelerano nello stesso identico modo questa cosa è una cosa di cui si parlava già ai tempi di Galileo si faceva l'esperimento tutte queste cose qua diciamo che c'è stato un test diretto quando siamo andati sulla luna la luna è un'atmosfera così rarefatta da sostanzialmente trascurarla e allora gli astronauti hanno preso un martello e una piuma se non sbaglio li hanno fatti cadere e hanno accelerato nello stesso identico modo toccando terra nello stesso momento ok e da qui con alcuni saltini logici la vera intuizione della relatività generale la gravità non va pensata come è certamente un'interazione tra oggetti in qualche senso ok ma va pensata essendo che poi l'oggetto che la subisce sparisce dalle equazioni essendo che l'accelerazione di gravità è un fatto universale la gravità si può pensare non come una proprietà degli oggetti non come un fatto che riguarda gli oggetti del mondo ma un fatto che riguarda il mondo in quanto tale cioè la gravità è una proprietà dei posti l'accelerazione di gravità e qualunque cosa tu ci metta l'accelerazione è sempre la stessa per quello che abbiamo detto e questa è una peculiarità assoluta della gravità questa universalità è una proprietà assoluta e speciale della gravità che la distingue un po' da tutte le altre le interazioni del mondo ad esempio ancora una volta l'interazione elettromagnetica interazione elettro in un certo punto di un campo elettromagnetico oggetti con massa diversa sentono un'accelerazione diversa in un certo punto del campo gravitazionale tutti sentono la stessa accelerazione e quindi l'accelerazione di gravità è una proprietà che possiamo spostare dagli specifici oggetti alla geometria del mondo questa è la grande intuizione di Einstein questo è quello che i divulgatori intendono quando si dice che in relatività generale la gravità è una deformazione dello spazio-tempo è una maniera matematica per dire sta roba qua per prendere questa informazione sull'accelerazione di gravità e ficcarla dentro al mondo così è già lì e poi se tu ci metti un oggetto questo oggetto la sente questo è il grande salto concettuale della relatività generale prendiamo lo spazio-tempo della relatività speciale e lo rendiamo meno noioso lo deformiamo e questa deformazione contiene le informazioni sulla gravità ok questo è il gioco questo è il gioco tanto più intenso il campo gravitazionale tanto più forte è la deformazione dello spazio-tempo e adesso che abbiamo fatto l'analogia facciamo il salto completo la gravità è una deformazione dello spazio-tempo poi fatto questo percorso di analogie tu arrivi in fondo e poi riscrivi la teoria da capo partendo da questo risultato scopri che la gravità ma seguendo analogie di questo tipo è è una deformazione dello spazio-tempo e ora risolviamo sostanzialmente tutti i problemi che abbiamo messo sul tavolo prima perché a la nostra nuova teoria può essere scritta in modo consistente con la relatività speciale senza problemi se io sposto un oggetto la sua gravità deforma lo spazio-tempo e questa deformazione si muove esattamente come si muovono delle onde su uno stagno si aggiorna pian pianino da lì si muove e cambia la deformazione con questo segnale che si propaga piccola nota a margine le informazioni sulla gravità si propagano e questo ce lo dice la teoria non è un fatto necessario ma ce lo dico gli esperimenti ce lo dice la teoria prima la teoria poi gli esperimenti che abbiamo fatto per cercare fino ad oggi confermano questa supposizione la velocità della gravità con cui si propagano i segnali gravitazionali cioè io sposto un oggetto dopo quanto tempo l'informazione raggiunge un oggetto lontano è la stessa velocità della luce nel vuoto ok? è identica questo cosa ci dice che quando noi troveremo perché non ce l'abbiamo ancora non l'abbiamo ancora trovato ma c'è una ragione per questo e se vuoi ci torniamo dopo quando noi troveremo la particella che si porta in giro la gravità esattamente come il fotone si porta in giro l'interazione elettromagnetica la luce quella particella dovrà avere massa zero esattamente come il fotone perché per muoverti alla velocità della luce nel vuoto l'avevamo detto ti ricordi devi avere massa zero e questo ci dice ad esempio che essendo che le onde gravitazionali che alla fine quello sono queste deformazioni che si muovono le cosiddette onde gravitazionali essendo che le onde gravitazionali si muovono alla velocità della luce nel vuoto secondo A la teoria e B tutti gli esperimenti che abbiamo fatto fino ad oggi noi ci aspettiamo che la particella della gravità abbia massa zero esattamente per la stessa ragione per cui il fatto che le onde elettromagnetiche si muovono alla velocità della luce nel vuoto implica che il fotone abbia massa zero ok questa è in poche parole la faccenda del gravitone che è un nome fichissimo tra l'altro infatti lo stavo leggendo in sotto che lo scrive a Leonardo ha detto gravitone bellissimo il gravitone è una cosa bellissima poi adesso nelle teori moderne c'è pure il gravitone e il gravitino ma queste sono supposizioni ipotesi non c'entriamo il fotone e il fotino il gravitone e il gravitino è l'ipotesi della supersimetria ma non c'entriamo io sono agnostico sulla supersimetria siamo nel 1915 e dobbiamo andare avanti questa è un po' l'idea del mondo che ci dà la relatività generale e che risolve dicevamo i problemi che ci siamo messi sul tavolo prima tra l'altro incorpora anche bene questa faccenda dell'accelerazione che diciamolo ancora una volta si poteva gestire già in relatività speciale ma adesso è semplicissima perché abbiamo parlato di accelerazione fino adesso abbiamo detto che le accelerazioni che la gravità l'accelerazione data dal campo gravitazionale è universale per tutti questo framework matematico questa tecnologia teorica che abbiamo costruito ci permette di gestire le accelerazioni in modo semplicissimo in particolare vale una cosa che Einstein che dipende proprio dal fatto che la massa sia sia a destra che a sinistra che si cancelli vale una cosa che si chiama principio di equivalenza ovvero se tu hai un corpo che accelera quell'accelerazione può essere ugualmente descritta come un campo gravitazionale costante uguale ovunque il più semplice di tutti quello con le freccette tutte nella stessa direzione campi gravitazionali cambiano ma diciamo quello costante che è il primo che studia a scuola ecco quella roba lì è matematicamente identica a un'accelerazione costante 1 perché se tu sei in un campo gravitazionale costante accelera in modo costante b perché quella accelerazione è uguale per tutte e c perché ci facciamo aiutare anche da degli esperimenti mentali ok qui questa è adesso sto andando un po' di qua un po' di là ma per fare un piccolo riassunto no così poi arriviamo alle cose più moderne più interessanti il famoso esperimento mentale del dell'ascensore di einstein l'hai mai sentito nominare bene adesso te lo no l'ascensore no ti dico l'ascensore di einstein è l'esperimento mentale che ci permette un po' di intuire la ragione per cui le accelerazioni possono essere ugualmente descritte come campi gravitazionali allora tu immagina di essere in un ascensore adesso vediamo se te lo faccio se te lo faccio bene che non te lo faccio uguale a quello di einstein ok ma immagina di essere in un ascensore ok e quell'ascensore è fermo in un campo gravitazionale ok tu cosa senti ti senti schiacciata sul fondo si e ti senti il tuo peso ok ora immagina di togliere togliere il campo gravitazionale non c'è più la terra non c'è più niente c'è solo l'ascensore non c'è più nessun peso galleggi naturalmente si io dovrei è tipo quegli esperimenti quelli zero gravity quelle cose esatto sei zero zero gravity no perché non c'è più la gravità ora una mano gigantesca attacca una corda al tuo al tuo ascensore e lo tira verso l'alto con un'accelerazione esattamente esercitando una forza che dà un'accelerazione esattamente identica a quella che era l'accelerazione di gravità sulla terra tu cosa esperienzi si dice così no che esperienza fai cosa vivi tu che non sai cosa stia succedendo fuori e quando io sto galleggiando in quel momento perché sì tu all'inizio stai galleggiando teoricamente se tira da mi immagino questo manona questa manona l'ascensore va verso l'alto con la stessa forza con cui sarebbe andata verso il basso però non c'è gravità quindi in teoria io dovrei ancora galleggiare ma una volta che l'ascensore ti raggiunge cosa? il pavimento dell'ascensore ti raggiunge ah giusto quindi prendo il soffitto praticamente no prendi il pavimento no se lui lo tira lo tiro verso l'alto sì lo tiro verso l'alto tu prendi il pavimento e ti senti tirare in particolare vieni schiacciata sul pavimento con l'accelerazione che va verso l'alto no con cui lui sta tirando allora l'ascensore sta andando verso l'alto sì ma rispetto all'ascensore quindi tu stai andando verso il basso no? è allo stesso effetto praticamente identico è esattamente identico se lui tira l'ascensore tu ti senti schiacciata verso il basso no? esattamente come in macchina uguale se l'ascensore non ha finestre tu non puoi accorgerti della differenza tra un campo gravitazionale costante e un'accelerazione costante di una mano che tira da fuori certo perché non ti rendi conto da dove avviene non c'è la gravità esattamente esattamente non c'è nessun esperimento che possa distinguere le due situazioni fatto da dentro l'ascensore nessuno ok? nessuno vale anche il viceversa vale anche il viceversa fai che la mano smette di tirare sei in caduta libera non hai peso in caduta libera tu non hai peso la nozione hai una massa ma non hai un peso perché galleggi se si stacca l'ascensore in un campo gravitazionale e cade che esperienza fai? eh lì è al contrario finché non cadi per terra galleggi sei in aria finché non sbatti tra virgolette ok? sì sì essere in caduta libera è uguale a galleggiare nel vuoto finché non sbatti ovviamente poi quando sbatti te ne accorgi certo perché le atterri anche tu essere in caduta libera è uguale a galleggiare nel vuoto perché ancora una volta tu sei stai questo poi diventa un pochetto più complicato ma diciamo che stare fermi in un campo gravitazionale costante fammela dire meglio è come subire un'accelerazione essere in caduta libera in un campo gravitazionale costante vuol dire che nel tuo sistema di riferimento stai annullando la gravità e quindi galleggi perché? perché la tua accelerazione verso il basso e la gravità in qualche modo si bilanciano l'uno con l'altro proprio perché sono fenomeni per te assolutamente identici è per questo che galleggi quindi che tu abbia gravità e accelerazione verso il basso o nessuna delle due né mano che tira né gravità in ogni caso hai la stessa identica esperienza quindi abbiamo due esempi quello in cui sei fermo nel campo gravitazionale la mano ti tira o quello in cui acceleri esattamente come vuole il campo gravitazionale quindi in qualche modo per te tutto si bilancia e non senti più un peso e quello in cui non succede niente in cui vediamo che accelerazione e gravità sono bestie molto simili in fisica poi se non è chiaro se non è chiaro ci dimmelo se ci sono no no in realtà in chat avevano già capito sono io quella che ci ho messo tempo sulla questione della manona mi sono confuso sono cose qui ti devi abituare il cosiddetto gedanken experiment no l'esperimento mentale che si fa in fisica adesso tra l'altro io man mano che andavo un po' deformato quello di Einstein lo un po' non ti avevo precisato che dovevi star ferma quindi pian pianino l'abbiamo costruito no guarda la scienza ti aveva seguito avevano tutti indovinato cioè avevano azzeccato meraviglioso ora possiamo descrivere l'accelerazione come un campo gravitazionale costante e giocarci con questa nozione che è diventata molto più sfumata la distinzione tra accelerazione e gravità costante è diventata sfumata se non puoi fare esperimenti che le distinguono abbiamo integrato la relatività speciale con la gravità abbiamo una teoria che tratta la gravità come una deformazione dello spazio-tempo questa cosa qui è la relatività generale ora da un punto di vista concettuale cosa significa questa cosa qua significa varie cose prima di tutto prima di tutto abbiamo promosso lo spazio-tempo da sfondo a protagonista della fisica ovvero questa cosa ce la siamo già detta in passato adesso la stiamo ricostruendo fino alla relatività speciale lo spazio-tempo era un oggetto che stava dietro i fenomeni della fisica una specie di palcoscenico su cui poi gli attori della fisica i fotoni i campi fanno le loro robe anche se un po' modificato dalla relatività speciale nel senso che diversi osservatori nel pubblico vedono cose diverse ma questo è un effetto ottico sul palcoscenico resta comunque un palcoscenico con la relatività generale noi scopriamo che lo spazio-tempo non solo è un po' bizzarro nel senso che osservatori diversi lo vedono in modo diverso ma è proprio un attore come gli altri è un attore un po' speciale perché gli altri stanno sulla sua pancia immaginiamolo come un gigante sulla sua pancia tutti gli altri attori di grandezza normale che recitano ma è un attore e come tutti gli altri oggetti della fisica interagisce quindi modifica la maniera in cui le cose si muovono ovviamente la forma dello spazio-tempo la gravità a questo punto abbiamo detto che sono sinonimi porta le cose a muoversi in un certo modo soprattutto quando sono lasciate in caduta libera no? ad esempio muoversi verso il centro della terra e viceversa la presenza di degli oggetti deforma lo spazio-tempo produce un campo gravitazionale quindi c'è una mutua interazione esattamente come c'è sempre in fisica possiede una sua energia ha una sua configurazione cambia nel tempo è esattamente analogo al campo elettromagnetico solo che ha questa cosa in più ovvero che tutti gli stanno sopra e qui arriviamo a un'altra caratteristica speciale che è un po' la versione aggiornata di quello che ci dicevamo prima non solo l'accelerazione di gravità è uguale per tutti ma tutti sentono l'accelerazione di gravità e tutti deformano lo spazio-tempo cosa intendo? facciamo le due direzioni tutti deformano lo spazio-tempo qualunque distribuzione di energia qualunque oggetto qualsiasi roba tu possa immaginarti deforma lo spazio-tempo anche ad esempio la luce la luce possiede una certa quantità di energia e quindi deforma lo spazio-tempo questo supera quello che diceva Newton per Newton la gravità è una cosa prodotta dagli oggetti con massa e percepita dagli oggetti con massa ma noi ci siamo detti in relatività speciale che la massa è una forma di gravità è uguale mc al quadrato e quindi siamo più in generale in realtà Newton si era accorto di un caso specifico si era accorto del caso specifico in cui la forma di energia chiamata massa sente e produce gravità in realtà scopriamo con Einstein che la gravità è davvero universale ogni forma di energia produce gravità ogni oggetto che possiede energia sente la gravità quindi da un lato come dicevamo la luce deforma lo spazio-tempo la luce ha un suo campo gravitazionale molto molto debole dall'altro la luce sente il campo gravitazionale questa è una delle prime implicazioni sperimentali che incontriamo nella gravità di Newton la luce va dritta nella relatività generale in presenza di un campo gravitazionale la luce curva segue la forma dello spazio-tempo localmente si misuri la sua velocità trovi sempre che si muove la velocità della luce nel vuoto a patto che tu sia nel vuoto ma lo fa segui andando dritta in uno spazio-tempo curvo però e andare dritto in uno spazio-tempo curvo significa muoversi lungo le sue curve esattamente come andare dritto sulla terra significa muoversi lungo l'equatore no è una curva perché la terra è curva ma stai andando dritto è quello che significa andare dritto su una palla più in generale andare dritto su uno spazio-tempo curvo significa seguire percorsi bizzarre no banalmente i percorsi che segui quando sei in caduta libera lì stai andando dritto nello spazio-tempo curvo perché stai seguendo quello che lo spazio-tempo ti dice di fare senza opporti come puoi sapere se ti stai muovendo libero nello spazio-tempo esattamente per quello che dicevamo prima non hai peso ok se tu hai peso ti stai opponendo a quello che lo spazio-tempo vuole farti fare ti stai dal punto di vista dello spazio-tempo muovendo in modo strano no quindi io stando sulla mia sedia in realtà ho un peso perché mi sto opponendo al moto naturale del mio corpo nello spazio-tempo che è la cosa più simile a stare fermo che possiamo definire qui quindi in realtà star fermo è lasciarsi trascinare dalla gravità è la cosa più simile a stare fermo che abbiamo in fisica adesso io adesso sono fermo rispetto alla terra ok perché poi si è sempre in senso stretto fermi rispetto a qualcosa rispetto a qualcosa ok ok ovviamente ma diciamo che se c'è una cosa che è un analogo dello stare fermo certamente non è non è stare seduto stare seduto alla mia scrivania è l'analogo di quello che era muoversi in modo accelerato prima ok ok muoversi in modo accelerato nella meccanica in meccanica di Newton lasciarsi cadere nello spazio-tempo curvo è l'analogo del moto rettilineo uniforme ah sì costante ok appunto per questo in cui le accelerazioni e la gravità si cancellano tutte mentre adesso io sento la gravità ma mi oppongo e quindi il pavimento mi spinge quindi in realtà sto accelerando verso l'alto dal punto di vista dello spazio-tempo no? lascio cadere questa cosa è bellissima cioè posso dire che in realtà non sto seduta tutto il giorno ma sto accelerando verso l'alto eh sì da un punto di vista spazio-temporale assolutamente bellissimo è come se tu passi contro una cascata no? in qualche modo ah certo sì è vero e quindi stai c'è costantemente questa accelerazione il tu hai l'analogo del moto rettilineo uniforme che è lasciarsi cadere nello spazio-tempo curvo e a quel punto non hai un peso perché stai semplicemente seguendo sei in caduta cosiddetto in caduta libera quello che i fisici chiamano un osservatore geodetico adesso questa è una parolina una parolina figa per dire la stessa identica cosa ok e ovviamente un 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 moto lì hai la possibilità di scegliere una velocità iniziale quindi hai tanti modi in cui puoi stare in caduta libera no? a seconda di qual è la tua velocità iniziale esattamente come ci sono infiniti moti rettilinei uniformi che puoi avere in fisica classica no? e di una velocità iniziale poi è un certo moto in caduta libera quello è l'analogo del moto rettilineo uniforme e per un certo osservatore solidale con te sei fermo ok? ecco diciamo questa è l'analogia io ho provato a sai succede sempre questa cosa qui uno cerca di renderla il più divulgativa possibile poi si pente e aggiunge i tagli no? quindi credo sia credo che possiamo fare il passo in più non dire che è come star fermo ma dire che è come stare in modo rettilineo uniforme ora perché ci interessa che la luce curvi? perché questa è stata la prima diciamo evidenza sperimentale a supporto della relatività generale ed è un esperimento che hanno fatto con un eclissi totale direi se non sbaglio ci avevamo provato con l'eclissi totale del 1918 ma c'era nuvolo voi sapete che un eclissi totale c'è circa ogni 19 mesi sulla terra da qualche parte se non sbaglio una cosa del genere nello stesso posto c'è una volta ogni 300 e fischi anni ma se tu sei disposto ad andare ovunque puoi beccare un eclissi totale mi sembra ogni 19 mesi ok quindi quella prima era nuvolosa hanno rifatto l'esperimento con quella del 1919 e hanno osservato una cosa molto interessante perché qual è l'idea? se tu hai diciamo che oh cielo ok questa è la terra ok la mia testa è il sole e di qua c'è una stella lontana che emette la sua luce ok normalmente la presenza del sole la presenza del sole mi impedisce di vedere questo oggetto lontano perché è troppo luminoso ma durante questa è la terra questa è vi mettiamola così la stella lontana ok che butta fuori luce durante un eclissi io perdo tutta questa luminosità del sole no e quindi posso notare un fenomeno che normalmente non noto ovvero la luce di questa stella lontana un po' va contro il sole e pace ma quella che passa proprio tangenzialmente al sole no perché spara luce in tutte le direzioni sono sono chiaro sì 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 tangenzialmente al sole curva proprio perché lo spazio-tempo è curvo vicino a una massa come quella del sole che curva tanto lo spazio-tempo ci sarà una parte di luce che un po' curva e va di là un po' curva e va di là ma un pochetto curva e raggiunge la terra quindi questo effetto di curva scusa se ti interrompo quello intorno che si vede nell'eclissi no quella è una cosa ancora extra è una cosa ancora extra no no ti sto dicendo proprio la luce sparata dalla stella fa il giro attorno al sole e ci raggiunge cosa impossibile se la luce va solo dritta se la luce va solo dritta tu non puoi vedere una cosa che è dietro il sole ma se la luce può curvare in particolare vicino al sole curva tanto perché perché la gravità è molto forte può fare proprio una traiettoria come quella delle navicelle può sfruttare il sole per raggiungerci e quindi noi possiamo vedere al di là del sole vediamo l'oggetto un po' spostato sopra anche se in realtà è dietro perché la sua immagine la luce che lui spara che questa stella spara ci raggiunge è chiaro? sì questo è un effetto eminentemente relativistico non lo puoi avere con meccanica classica più elettromagnetismo perché lì la luce va davvero solo dritta hanno visto questa cosa qua durante una spedizione la famosa spedizione di Eddington e questo è stato il primo supporto vero alla relatività generale cioè hanno visto sapevano che c'era una stella dietro il sole in quella specifica posizione e durante l'eclissi quando la luminosità del sole è drammaticamente ridotta sono riusciti a vedere questa stella nonostante fosse dietro il sole esattamente perché la sua immagine ha curvato attorno al sole la luce sputata dalla stella e ha raggiunto i loro telescopi ovviamente per vedere questa cosa qui hai bisogno di terra luna sole stella allineati così se tu non abbia la luminosità del sole che la luce possa passargli vicino quindi è una condizione un po' particolare ma ce l'hanno fatta e questo è stato il primo vero supporto alla relatività generale ovviamente ha tutta un'altra serie di implicazioni ad esempio che è una cosa che ci siamo detti anche in passato il fatto che il tempo scorra in maniere diverse perché quando dicevamo una deformazione dello spazio-tempo significa che le nozioni di durata nel tempo e lunghezza nello spazio non dipendono più solo dalla velocità di un osservatore rispetto a un altro ma dipendono anche dal campo gravitazionale ok il campo gravitazionale modifica le nozioni di spazio-tempo la lunghezza di righelli e la velocità con cui vanno i cronometri se vogliamo del ticchettio dei cronometri in particolare andando più sullo specifico perché la gente sembra questo è molto curioso quando fai questo esempio poi nonostante lo spazio-tempo sia un oggetto solo la questione dello scorrere del tempo colpisce sempre molto di più è affascinante qualcosa è molto affascinante questo poi ci porta a tutta una serie di altre implicazioni ad esempio quelle dei satelliti gps è tutta una questione che avevamo menzionato ovvero se abbiamo detto che la gravità è una deformazione dello spazio-tempo che questo implica che tanto più intensa è la gravità tanto più il tempo scorre piano perché tanto più lo spazio-tempo è deformato questo significa che tanto più sei vicino a un oggetto con una grossa massa e un campo gravitazionale intenso quindi tanto più sei vicino ad esempio alla Terra tanto più il tuo tempo andrà piano rispetto a quello di un certo osservatore anche qui ancora una volta noi non abbiamo più uno scorrere del tempo assoluto tu per dire se il tempo va veloce e piano lo devi sempre confrontare al tempo di qualcun'altro quindi io non ti posso dire che il tempo va piano va veloce va più piano o va più veloce ti posso dire che va più piano o più veloce del tempo di un altro osservatore quindi se hai due osservatori a distanze diverse da un pianeta ad esempio da un oggetto molto massiccio con molta energia quello più vicino quello che sente più gravità avrà un tempo che va più piano di quello dell'altro ora questa sembra una una faccenda come si dice sempre un po' così discutere il sesso degli angeli no una roba che alla fine conta poco in realtà ha anche implicazioni tecnologiche ce l'eravamo detti tempo fa ma lo ripeto perché questo effetto può essere piccolino e tra poco vediamo quanto quanto intenso è per me che vivo al primo piano e qualcuno che vive al piano terra insomma il tempo qui va un pochetto più veloce io invecchio un pochetto più velocemente però insomma è una roba trascurabile ma se pigliamo un satellite gps ad esempio che è lassù in cielo lì sì il tempo va significativamente più più veloce ancora una volta adesso vedremo quanto e quindi i software dei satelliti devono tener conto di questa correzione lo stesso vale ad esempio per le missioni spaziali quando anche in prospettiva in prospettiva dovremmo tener conto di effetti relativistici in missioni spaziali a lungo termine ad esempio banalmente nel calcolare le orbite dei pianeti tu sbagli sbagli se usi la meccanica di Newton uno dei grandi problemi ecco non l'ho menzionato prima perché lo si tende a trascurare ma uno dei grandi problemi della meccanica di Newton era che sbagliava a calcolare una caratteristica la precisione non importa cosa sia dell'orbita di Mercurio la relatività generale è giusta anche quello quindi diciamo che il primissimo successo della relatività generale è calcolare giusta l'orbita di Mercurio ma quello era un problema aperto che interessava un po' più i fisici e tende a essere un po' meno sexy del tempo che scorre a velocità diverse quindi ti chiedo la gentilezza di condividere se è stato un po' fino adesso quello che ti ho mandato prima allora quello che avete qui è un foglio anzi prima di tutto c'è qualche domanda qualche dubbio o qualcosa di cui dobbiamo parlare allora al momento non mi sembra chiedono solo se conosci il professor Casolino docente di Dor Vergata e ricercatore a Riken di Tokyo che non si pronuncerà mai mi spiace che c'è tanta gente che fa fisica è una cosa bella che ci sia tanta gente che fa fisica ma implica anche che purtroppo è un po' come quando sei di Roma e di ah ma conosci mio cugino che è di Roma questa cosa ma sei di Roma Roma ma conosci Andrea mi devi dire il signore allora no in realtà c'è una domanda ma dicono magari da lasciare alla fine ok ottimo sulla prospettiva eternalista che deriva dalla relatività generale ci sarei arrivato non è obbligato ah e allora niente spoiler l'eternalismo ci arriveremo ci arriveremo ora ora quello ha a che fare con le interpretazioni filosofiche della relatività generale una branca interessantissima della filosofia della fisica ci arriviamo prima voglio farvi vedere qualche conto nel senso che quello che vedete qui è un foglio di calcolo di matematica se qualcuno di voi ha usato Wolfram Alpha Wolfram Alpha è il cuginetto stupido di matematica matematica è il vero programma figo e si usa per simulazioni numeriche calcoli simbolici e tanti anche per scrivere in realtà è uno strumento molto utile nella vita quotidiana di tantissimi fisici e qui ho scritto una cosa francamente semplice rispetto a quelle che fanno che fanno quelli che adesso ci lavorano sul serio io non sono più tra questi come sapete dopo il dottorato appeso matematica al chiodo ma questo è un piccolo software che ti calcola la velocità relativa dello scorrere nel tempo tra due punti come funziona? usando le formule della relatività generale che abbiamo scritto qua dentro vedete c'è g che è la costante di Newton c'è la massa c'è il raggio della terra più l'altitudine di un certo corpo c'è c che è la velocità della luce sono tutte costanti che entrano dentro le equazioni quello che abbiamo è che qua possiamo definire l'altitudine in metri di due corpi quindi il corpo A si trova a qui 27 metri sul livello del mare il corpo B si trova a 21 metri sul livello del mare abbiamo usato la terra perché la terra è più interessante e allora questo programma ci calcola prima facciamo un numero un po' più interessante ci calcola prima quanti secondi passano in A mentre un secondo passa in B quindi qui vediamo che ad esempio se B è a 21 metri sul livello del mare e A è a 200 chilometri sul livello del mare un'altezza non esageratissima metà dell'altitudine della stazione spaziale internazionale vediamo che un secondo sulla terra corrisponde a uno punto un sacco di zeri due uno uno nove secondi su questa cosa su questo A che è a 200.000 metri sul livello del mare il tempo lì va leggermente più veloce e qui la seconda equazione ci dice in quanti anni c'è una deviazione di un secondo tra i due di un secondo intero perché vedete la differenza tra lo scorrere del tempo non è non è granché e si cumula nel tempo e quindi ad esempio tra 21 metri e 200 chilometri sul livello del mare noi abbiamo che ci vogliono 1496 quasi anni per avere un secondo cumulato di differenza nello scorrere del tempo ok e si può fare tutti i giochi che uno vuole mettiamo B a zero per semplicità quanto tu vivi al primo piano secondo piano piano terra al secondo quindi più o meno a che altezza i soffitti sono belli alti quindi penso che almeno credo una decina forse 15 facciamo 15 metri allora rispetto al tuo piano terra beh lì c'è un numero piccolissimo no? quindi rispetto al tuo piano terra ogni volta che passa un secondo lì passa uno punto tutti sti zeri qua due secondi in casa tua stavo pensando prima una cosa veramente stupida cioè se questa cosa effettivamente cioè ci fossero scorrere del tempo anche su un secondo piano tu pensa per comprare le case nessuno vorrebbe secondo terzo piano ma il settimo piano stare al piano terra è una cura di bellezza come dico sempre i miei sono più giovani della mia testa ragionevolmente no? perché è così poi possiamo anche calcolare quanto vedi tra il tuo piano terra e casa tua c'è uno shift di un secondo ogni due per dieci alla sette anni che è due milioni e venti milioni di anni io sbaglio sempre con queste cose c'è uno shift di un secondo ora qua mi sono segnato un po' di altezze di cose note i satelliti GPS sono tipicamente a questa altitudine no? venti milioni di metri ventimila duecento chilometri sul livello del mare no? l'altezza media di un satellite GPS la confrontiamo a cosa? la confrontiamo a casa mia al luogo dove sono nato Palmanova cittadina friulana che è a 27 metri sul livello del mare allora diamo l'invio scopriamo che ogni secondo a Palmanova corrisponde a cancelliamo questo questi secondi sono satellite GPS voi mi dite vabbè cosa vuoi che sia in quanti anni c'è un secondo di differenza in presto poco 60 anni ogni 60 anni che sono poco da un punto di vista della fisica iniziano ad essere numeri comparabili ogni 60 anni tra il luogo dove sono nato e un satellite GPS c'è un errore di un secondo questo errore qui basta a doverlo correggere a livello software quindi sono settati apposta per evitare questo cioè calcolando insomma questo i loro orologi sono corretti c'è un fattore di correzione e i loro orologi vanno un pochino più piano in particolare quanto è questo fattore qua questo fattore ti dice quanto più piano devi far muovere le lancette di un orologio di modo che quando poi lo mandi in orbita no tu corregga questo questo delay sì facciamo un ultimo c'era un'altra domanda su questo che poi in realtà te lo dicevo prima della live per scherzare vabbè io ho esagerato perché ho puntato direttamente all'Everest però Brega diceva chi sta in montagna tipo che vive in montagna a 2000 metri d'altezza cioè penso già ai paesi andini che stanno adesso ci arriviamo adesso ci arriviamo secondo me usiamo l'Everest che ha un effetto un po' più no facciamo scusami facciamo perché siamo sempre su numeri simili facciamo prima i paesi andini no facciamo 2000 metri sul livello del mare calcoliamo subito in quanti anni c'è uno shift di un secondo lasciamo stare il numerino sopra che non ci dice molto ok tra il livello del mare e 2000 metri c'è un secondo di shift ogni circa 145.034 anni che non è una roba che tu dici no cioè è la diversa velocità di scorrere in cui scorre il tempo non so se ci intendiamo una roba da pazzi una roba difficile proprio allora quanto è alto l'Everest allora ai tempi era 8848 ora non so se sia abbia ancora questa altezza 8848 ai tempi delle mie medie quando ho scritto la tesiva e ci mettiamo e mettiamo A in cima all'Everest e B sul fondo della fossa delle Marianne quindi la massima distanza che puoi avere sulla terra senza volare in quanti anni c'è un secondo di shift ogni 14.612 anni circa quindi è una cifra ancora più bassa rispetto a quella che abbiamo visto poco fa sì perché più allarghi la distanza poi uno che va lì sotto si avvicina significativamente al centro della terra certo poi il questo è sembra un effetto piccolo no ma quando ti rendi conto che stai parlando della velocità con cui scorre il tempo significa che la terra è un effetto che insomma in qualche modo che noi abbiamo orologi che insomma tale che i nostri orologi atomici migliori possono fare una misura significativa noi abbiamo degli orologi atomici che riescono a misurare questa cosa orologi atomici in che senso? sono degli orologi iperprecisi che sfruttano le oscillazioni di certi atomi ah ok se sia l'atomo di cesio che è quello con cui definiamo la nozione di secco no sai che tutte le le unità di misura sono definite da questa istituzione standard che definisce le unità di misura ecco il secondo è definito a partire dalla frequenza di oscillazione dell'atomo di cesio di un certo isotopo del cesio non sono un esperto chimica non so se usino esattamente quello o qualcosa del genere non sono un esperto di questa tecnologia però gli orologi atomici sono gli orologi più precisi che abbiamo e misurano anche sta roba qua quindi vederlo così un pochettino mi sconvolge mi tira abbastanza scemo e questo effetto questo effetto è piccolino solo e soltanto perché la gravità è estremamente debole ok la gravità e quindi la deformazione dello spazio-tempo indotto da un corpo con massa è estremamente debole ma come? la gravità debole questa cosa che mi appiccica mi appiccica a terra tu pensa che con le tue gambe riesci a saltare se riesci a sconfiggere la trazione di gravità alla superficie di un oggetto come la terra se vogliamo confrontarla all'interazione elettromagnetica pensa a quanto è facile sollevare un oggetto con un geomag con una calamita prendi una calamita e sollevi un pezzo di metallo e quella calamita sconfigge la trazione gravitazionale della terra e questo è dovuto al fatto che l'interazione gravitazionale è governata da una costante molto molto piccola che è la costante g di Newton ok che è molto molto piccola in unità standard qua mi dice metri al cubo chilometri sono sognato tutto ma secondi alla meno 2 questa cosa è 6.67 eccetera eccetera per 10 alla meno 11 ok se l'interazione è mancato Peter Higgs è mancato Peter Higgs ma aspetta cosa vuol dire che è mancato Peter Higgs eh mi sa che aspetta perché lo controllo perché di solito scherfano ieri ah ma ho reagito per realizzare no scusa Davide se no non te l'avrei detto però si conoscevano insomma ho avuto questo è mancato Peter Higgs beh qualche miseria mi dispiace moltissimo mi dispiace moltissimo e è stato un grande adesso abbiamo 5 minuti quindi sai quando sei un po' sotto shock che non sai bene come gestire eh no no lo immagino ma figurati ma ci mancherebbe Higgs è stato un grande assoluto tra l'altro un eroe della perseveranza nel senso che ha atteso 50 anni per avere il Nobel per la sua proposta teorica del meccanismo di Higgs e a questo punto io avevo piani diversi ma ti propongo propongo a te alla chat poi se ci dicono qualcosa di dedicare la prossima puntata a sto diavolo di bosone di Higgs così capiamo guarda VGG in realtà diceva proprio puntata dedicata a Higgs prossima volta quindi se ti va volentieri facciamo una puntata dedicata al meccanismo di Higgs ti faccio un piccolo spoiler il bosone di Higgs viene spesso chiamato la particella di Dio no? sì questa cosa è un nome giornalistico Higgs l'aveva chiamata la particella maledetta the goddamn particle perché è molto difficile da trovare a livello giornalistico si dice sì ma goddamn non lo possiamo mettere in un titolo di giornale quindi lo tagliamo diventa God particle quindi la particella di Dio che sembra suggerire chissà cosa in realtà era solo la particella maledetta che non si riesce a trovare condoglianze a lui alla famiglia insomma mi dispiace molto per lui grazie di avermelo detto grazie di avermelo detto ma che ma figura di ma ci mancherebbe perché ho controllato prima che insomma di dirlo perché ho detto spesso purtroppo in chat scrivono magari informazioni non vere comunque è una buona ragione per dedicare una puntata a qualcosa assolutamente assolutamente ci siamo detti che cos'è la relatività generale a spizzi che Bocconi ho cercato di andare veloce perché abbiamo ovviamente un tempo limitato e spero di essere stato chiaro abbiamo visto la dimensione di questo effetto la rilevanza di questo effetto ti faccio giusto vedere che se la costante di gravitazione fosse anche solo mille volte più più grande quindi cambiamo 10 alla meno 11 con un 10 alla meno 8 questo effetto sarebbe no ah sì 14 anni no sarebbero 14 anni 14 anni shift se quello fosse un 10 alla meno 8 invece che un 10 alla meno 11 no il vero vero un secondo di shift e ovviamente se questo fosse se togliessimo completamente il fattore di correzione fosse 6.6 una roba matta ovviamente perderesti un secondo ogni ogni avresti un numero no e poi qua ti metto una i perché il poi il calcolo non funziona bene con numeri così grandi però questo è accurato quindi il è notevole notevole no è che questa cosa dello scorrere del tempo è veramente ferma a pensare è veramente una cosa assurda no perché comunque vabbè ci sono delle spiegazioni però è assurda è davvero assurda l'ho rimossa perché adesso non la lasciamo così con i numeri sballati che se poi non la vede non la vede diventa la copertina strada ci fa lo screen e ci mette su twitter davide davide sciato numeri giganteschi allora molto rapidamente visto che l'han chiesto eternalismo versus presentismo la teoria della relatività uccide se vuoi una prospettiva filosofica che si chiama presentismo ovvero l'idea che esista un presente che si evolve nel tempo perché abbiamo detto che lo spazio e il tempo non sono più oggetti distinti non c'è un mondo 3D che esiste nel presente e che si evolve nel tempo ma c'è uno spazio-tempo a quattro dimensioni bevo un po' d'acqua perdonami tranquillo tranquillissimo bevuto io tutto il tempo in un ristorante samaicano e lo sento tutto il buonissimo il pollo no come si è buonissimo ma lo sento tutto ed è rimasto lì il quindi questo da un lato uccide il presentismo non puoi più pensare al mondo come un presente che si evolve nel tempo perché devi parlare di spazio-tempo e in particolare già in relatività speciale dicevamo osservatori diversi non sono d'accordo su cosa sia il presente su cosa sia simultaneo a cosa questa è una cosa che abbiamo menzionato no quindi la nozione di presente la nozione di simultaneità e quindi la nozione di un mondo che esiste che si evolve si perde già in relatività speciale qui le cose si fanno ancora più difficili perché il tempo non solo cambia per osservatore e osservatore ma cambia di punto in punto in relatività speciale quantomeno fissato un osservatore quell'osservatore vede il tempo scorrere nello stesso modo in tutto l'universo qua nemmeno quello qua la velocità con cui scorre il tempo cambia da punto a punto quindi la nozione di simultaneità si complica tantissimo e la prospettiva presentista viene davvero l'ultimo chiodo sulla bara magari lì la potevi diceva qua non si salva più davvero va buttata questa è una cosa anche da un punto di vista proprio filosofico veramente interessante applicazioni fortissime sul libero arbitrio su un sacco d'altre cose certo è che a questo punto uno si chiede ok ma come la devo interpretare questa teoria temo che siamo arrivati riesco a rubarti ancora due minuti certo si si vai tranquillo finché tanto non mi scrivono che è iniziata la scorsa volta siamo andati anche troppo oltre la radio youtube era iniziata proprio veramente meraviglioso meraviglioso diciamocelo ci sono vari modi per interpretare la relatività generale il più pop è il cosiddetto eternalismo quindi dire ok non c'è più un presente c'è uno spazio tempo a quattro dimensioni che è tutto lì fine il futuro il passato tutte queste robe qua esistono esattamente come esiste il presente è in qualche senso tutto già lì e per qualche ragione io sto esplorando questo spazio tempo seguendo la storia della mia vita della mia evoluzione dal mio passato verso il mio futuro che è un percorso in questo spazio tempo a quattro dimensioni se questo fosse vero ovviamente tutto sarebbe già lì e metterebbe delle forti pressioni all'idea di un libro arbitrio ad esempio no? la libertà del futuro cose di questo tipo sei obbligato ad avere una prospettiva di questo genere? non necessariamente nel senso che puoi anche avere un punto di vista un po' più moderato che è quello di avere un eternalismo locale no? non un eternalismo ovunque ma avere che attorno a te hai una specie di porzione dello spazio tempo che esiste ma questo non deve necessariamente essere tutto dal tuo punto di vista una cosa un pochino un po' complicata se qualcuno è interessato credo che sia qualcosa qualcosa causal diamonds ma lo trovate ci sono paper se cercate interpretazioni della relatività generale lo trovate sono andato super veloce ma volevo un attimo toccare questo punto non c'è qualcos'altro da dire qualche commento qualcosina ma allora prima ti dico questo perché ovviamente te lo voglio dire già due o tre persone hanno detto che ha una voce simile anche la modalità di espressione è uguale a Barbero quindi io te lo ripeto sempre perché mi fa piacere quindi io te lo ridico bene poi c'era estremo posto diceva se sono in ritardo posso dire che per me sono in orario effettivamente ci potrebbe essere qualcosa no allora domande proprio sui temi non mi sembra anche perché ti seguono proprio sul pezzo cioè ci sono un sacco di persone sul pezzo che sanno quello di cui stai parlando però se avete domande all'ultimo ragazzi fatemene bene fatemene non a me a Davide perché io poi mi rispondo ridendo cioè nel senso poi se quando la live viene ricaricata su youtube poi noi possiamo andarci da spulciare io magari mi tengo va benissimo stravolentieri assolutamente sarà l'unica volta questo però ovviamente i signori del pubblico di youtube non lo dovranno sapere in cui leggerò i commenti sotto un video di youtube no però scherzo scherzo ovviamente no va benissimo allora direi che ti liberiamo Davide va benissimo dai vado a mangiare poi continuo a lavorare ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata insomma spero è stata piacevole lamenta di quanto lo è stata per me perché in tal caso è stata piacevole che città devo dire un po' un po' un po' affazzonata l'hai girata bene ma l'ho riconosciuta quindi grande Davide veramente comunque grazie mille grazie a tutti e a tutti per averci seguito ovviamente torneremo qui presto quindi andate in live su youtube perché Ivan in teoria dovrebbe aver avviato la live tema nato se non erro quindi lo trovate lì sì oggi tutti argomenti leggeri tra stamattina e stasera noi no noi ci siamo tenuti leggeri invece per fortuna senza peso in caduta libera esatto assolutamente comunque buona serata a tutti e ci vediamo presto buona serata ciao Francesca ciao pubblico ciao